Ciao ragazzi e benvenuti nella seconda parte teorica degli strumenti di navigazione, nello specifico dello strumento VOR. Se vi siete persi la prima parte vi invito caldamente a visionare il video cliccando qui in alto a destra in modo da riuscire a comprendere appieno questi argomenti che tra poco tratteremo. Ora vediamo da vicino lo strumento Omnidirectional Bearing Indicator, come è composto, come si legge e come si usa. Di primo impatto come possiamo notare ha una ghiera con i punti cardinali come ce l'ha ad esempio il giro direzionale, abbiamo anche una linea bianca che sembra tagliare in due il nostro strumento e infine questo triangolino che fra poco vedremo a che cosa serve. Allora, come si legge il VOR? La ghiera facilmente intuibile ci mostra le radiali del nostro VOR. La linea bianca invece ci indicherà esattamente su quale radiale stiamo volando e ce la indicherà quando sarà in posizione completamente verticale rispetto al nostro orizzonte. Invece il triangolino ci indicherà la posizione della stazione VOR a patto che stiamo percorrendo in maniera corretta l'asse longitudinale della radiale. In buona sostanza non possiamo fare affidamento alla direzione indicata dal triangolino se non stiamo percorrendo la radiale in maniera corretta. Spesso questo triangolino viene rappresentato con due sigle TO e FROM. TO sta a significare proprio verso il VOR, FROM da il VOR. Abbiamo detto che la linea bianca ci indicherà la radiale sulla quale noi stiamo volando, però fate molta attenzione che la radiale possiamo anche attraversarla. Vi ricorderete senz'altro quando ho detto che il VOR ha i suoi personali punti cardinali. Ecco intendevo dire che lo strumento di bordo ci darà informazioni per quanto riguarda le direzioni delle radiali, ma non è detto che noi ci troviamo nella direzione corretta. Verosimilmente potrebbe accadere che noi potremmo incrociare una radiale proprio come incrociamo una strada. E proprio grazie a questa animazione vedremo come si utilizza finalmente il nostro VOR. Allora facciamo un esempio molto semplice. Siamo a bordo del nostro solito aeroplano, ci stiamo dirigendo da sud verso nord e dobbiamo intercettare la radiale 270 del VOR PINCO PALLINO. Inseriamo la frequenza del nostro VOR PINCO PALLINO all'interno della nostra plancia radio e come potete notare la linea bianca si è spostata verso destra. Ora andiamo a selezionare la radiale 270 sul nostro strumento. Grazie a questa rotellina che c'è qui in basso a sinistra portiamo il valore 270 in basso al nostro strumento. Vi chiederete perché in basso e non in alto? Le mettiamo in basso perché abbiamo visto che le radiali dei VOR sono outbound pertanto la prua da seguire in caso volessimo avvicinarci al nostro VOR la leggeremo esattamente sul lato opposto della linea bianca cioè in alto al nostro strumento di conseguenza la nostra prua sarà 090. Ora vediamo come si comporta il nostro strumento non appena ci stiamo avvicinando alla radiale 270. Man mano che proseguiamo in questa direzione possiamo notare che la linea bianca del nostro strumento lentamente si sta spostando verso il centro e poco prima che raggiunga la sua posizione verticale noi effettueremo la nostra virata verso destra per prua 090 in modo da avvicinarci al nostro VOR in modalità Qd Mike. È assolutamente importante ed essenziale che la linea bianca del nostro strumento rimanga in posizione verticale per tutto il tragitto fino al raggiungimento del VOR. Solo questo ci garantirà che stiamo seguendo la radiale 270 in maniera corretta. Se si dovesse discostare dalla posizione verticale vuol dire che non stiamo seguendo la radiale in maniera corretta. Quindi prestate molta attenzione e apportate le giuste correzioni nell'eventualità che questo accada. Vediamo ora come utilizzare il nostro strumento in caso volessimo intercettare la radiale 270 in modalità di approccio Qd Romeo cioè in allontanamento dal VOR. La stessa cosa di prima ci stiamo dirigendo con prua 360 e pian pianino come possiamo notare la linea bianca del nostro strumento si sta spostando lentamente verso il centro. Poco prima che raggiunga la sua posizione verticale vireremo questa volta a sinistra per prua 270 quindi verso ovest e cavalcheremo la nostra radiale e anche qui dobbiamo fare molta attenzione a mantenere la linea bianca correttamente in posizione verticale. Se vi accorgeste che la linea bianca si sta disallineando dalla sua posizione ovviamente apportate le giuste correzioni. Invece ora vediamo come si comporta lo strumento in caso noi attraversassimo la radiale quindi non riusciamo a cavalcarla a seguirla né in Qd Mike né in Qd Romeo cosa vedremo sul nostro strumento? Esattamente questo che vi sto mostrando in questo momento. Stiamo procedendo come al solito con la nostra prua 360 iniziale. Pian piano la nostra linea bianca si sta allineando verso il centro quando siamo esattamente sulla radiale abbiamo visto che prende la posizione verticale se andiamo oltre la nostra linea bianca si sposta sull'altro lato del nostro strumento a testimoniarci che abbiamo oltrepassato la radiale ce la siamo persa in poche parole. A quel punto correggeremo la nostra direzione e tenteremo ancora una volta di dirigerci verso la radiale per intercettarla correttamente. Noterete come in entrambi i tre casi il triangolino indichi sempre la direzione est nonostante sia nel secondo che nel terzo caso abbiamo direzioni differenti. Questo cosa ci fa capire? Che sommariamente la nostra stazione Vor si trova verso est ma per avere la certezza di raggiungerla in maniera precisa come abbiamo visto bisogna intercettare la radiale in maniera corretta quindi cavalcandola e dirigendoci verso il Vor se vogliamo avvicinarci o nell'altro lato se ci vogliamo allontanare ma sempre seguendo la radiale in maniera precisa. Voi mi direte perché complicarsi la vita in questo modo quando basterebbe seguire un NDB che è più facile ti dà direttamente la direzione corretta senza fare questo calcolo assurdo con le radiali e il Q di Mike e Q di Romeo prua diretta prua inversa perché la maggior parte delle procedure aeroportuali sia di partenza che di arrivo ma anche e soprattutto anche le procedure di navigazione di spostamento tra un aeroporto e un altro richiedono assolutamente la conoscenza di questo strumento non che oltretutto serve agli organi di controllo per gestire il traffico aereo perché tutti debbano rispettare le stesse regole ed essere incanalati nelle giuste direzioni in modo che l'organo di controllo riesce a gestire in maniera sicura tutti i traffici che ci sono in volo nella sua zona. Bene ragazzi ci sarebbe tanto e tanto altro da dire su questo strumento ma spero che per iniziare questo possa bastare anzi abbiamo già visto comunque sia uno strumento che non è propriamente dedicato al volo VFR anzi diciamo che vi ho anticipato qualcosa del volo strumentale comunque sia vi invito ancora una volta a studiare in maniera più approfondita per ampliare la conoscenza di questo strumento. Se avete domande commenti da fare non esitate lo sapete a commentare qui sotto cercherò di rispondere a tutti nel frattempo esercitatevi col vostro simulatore che sicuramente è il metodo migliore per imparare. Vi do appuntamento ai prossimi video se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!